Buonasera, buonasera a tutti in primo piano. Stasera c'è quell'inchiesta che sta facendo scalpore in tutta Italia. La procura di Spoleto ha messo sotto inchiesta Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia e altre sette persone. L'indagine si riferisce al passaggio della BPS, la Banca Popolare di Spoleto, al Banco Desio e della Brianza. La procura non ha confermato né smentito, ma una conferma arriva dall'Aspocredit, che è l'associazione dei soci. Sono circa un centinaio dell'Aspoleto Credito e Servizi e dall'avvocato Rizziero Angeletti, che è l'autore dell'esposto contro Banca Italia, da cui poi è scaturita questa indagine. L'associazione, parlando di una comunicazione di iscrizione a registro di una persona offesa che non è specificata, dice però che emerge che il governatore Visco è indagato dal 28 gennaio scorso per corruzione, abuso d'ufficio, truffa e infedeltà. Ma partiamo dall'inizio con Federica Becchetti. Massimo, il riservo sull'inchiesta riferita dal Fatto Quotidiano, che vede indagato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, insieme ad altre sette persone. L'accusa sarebbe quella di corruzione e truffa in merito al commissariamento della Banca Popolare di Spoleto e della cooperativa Spoleto Crediti e Servizi, che con i suoi 21.000 soci controllava la maggioranza dell'istituto spoletino. A seguito dell'ispezione avviata da Via Nazionale nel 2012, i commissari, due anni dopo, decisero anche la vendita a Banco d'Esio, decisione contestata dai soci di SCS, che videro così le loro quote scendere al 10% e giudicata illegittima nel febbraio scorso dal Consiglio di Stato, che l'ha annullata, invalidando anche la successiva vendita. E proprio da un esposto, presentato da un centinaio di soci dell'istituto di credito Umbro, potrebbe essere partito tutto quanto. Fra gli indagati ci sarebbero gli stessi commissari nominati da Banca Italia, Giovanni Boccolini, Gianluca Brancadoro e Nicola Stabile, i componenti del Comitato di Sorveglianza, e Stefano Lado, attuale presidente di BPS e vicepresidente di Banco d'Esio. La Banca d'Italia sottolinea di non essere a conoscenza di alcuna iniziativa dell'autorità giudiziaria. E sulla vicenda interviene anche l'Adusbef, che parla di grave danno ai risparmiatori, al momento che il commissariamento della Banca Umbra, annullato, specificano da due sentenze del Consiglio di Stato, con la successiva vendita dell'istituto, avrebbe ridotto a zero l'investimento dei 21.000 soci della Banca Popolare di Spoleto, con danni quantificati, è sempre l'Adusbef che parla tra i 300 e i 350 milioni di euro.